ben ritrovati amici del centro meteo italiano in questi giorni una delle parole più usate delle notizie meteo è stata gelicidio questa parola che deriva direttamente dal latino indica un particolare fenomeno atmosferico per il quale la pioggia ghiaccia immediatamente appena tocca terra questo avviene quando le temperature prossime al suolo sono negative allora perché non cade la neve come potete vedere anche dalla grafica qui alle mie spalle che al fenomeno del gelicidio quando una massa d'aria più calda si trova a scorrere su una più fredda accumulata al suolo senza nessun rimescolamento e questa risulta sufficientemente calda da rovinare la colonna d'aria un fiocco di neve precipitando si scioglierà in una goccia d'acqua che poi entrerà nello strato di aria fredda al suolo gelando al contatto con ogni superficie lo schema di quanto appena detto è rappresentato nel rettangolo evidenziato qui a fianco il ghiaccio ricopre quindi ogni cosa rendendo il gelicidio un fenomeno atmosferico ancora più pericoloso della neve se avete delle domande riguardo a questo particolare fenomeno non esitate a scriverci qui sotto nei commenti un saluto da parte del centro meteo italiano